Questo spazio è offerto da Magé, Bar Gastronomia, Via Faraldo, Fisciano Salerno, telefono 089 28 52 807 Joart Tattoo, Viale Principio Amedeo, Solufra Avellino, telefono 393 75 80 537 E cominciamo subito ragazzi, vi avevo detto che oggi poveriggio io ero un po' super emozionato perché c'è il produttore del mio artista preferito però lui non è stato solamente il produttore del mio artista preferito è stato anche il produttore di Edoardo Bennato e degli Stadio io lo volevo annunciare così, le sele stanno in cielo, i sogni non lo so ma so che sono in pochi quelli che si avverano Guido Elmi, produttore di Vasco Rossi, in diretta con noi Ciao Guido, benvenuto Ciao, grazie a voi Come stai prima di tutto? Tutto bene? Ma sì, abbastanza bene, sono un po' stanco ma vabbè Un po' stanco perché sei molto 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 produttivo ultimamente perché stai proponendo il tuo ultimo single e anche il tuo ultimo album ce ne racconti com'è nato proprio il tuo ultimo album? L'idea dell'album nasce al fine degli anni 90 però poi mi ho lasciato perdere, non mi piaceva la mia voce eccetera eccetera poi con gli anni ho trovato un tipo di vocalità che mi soddisfaceva quindi circa un anno fa ho cominciato a lavorare a quest'album e quindi ho preso forza man mano, i pezzi venivano ho cominciato a cantare in maniera, mi sembra convincente poi bene o male quello giudica la gente comunque in maniera convincente e anche sicera credo di interpretare le cose che dico in maniera insomma che a me è soddisfatto poi non so ricevo anche parecchi attestati di stima quindi sono contento Eh sì, Jumi Juju un bellissimo singolo molto molto io lo definisco anche molto sensuale se mi lasci passare il termine Guido Sì, beh, è dedicata a una donna che era molto sensuale quindi va bene Bellissimo anche il video ti sei divertito anche a girare il video Guido? Sì, per il video ho chiamato questa attrice francese molto giovane un po' separata da me perché lei rappresenta la bellezza femminile come immaginario non una donna che sta con me perché è molto giovane insomma rappresenta la bellezza femminile e il pezzo è dedicato a questo Tu sono 35 anni che lavori dietro alle quinte non è così? Sì, forse anche 38 forse un po' di più Ecco, che rapporti hai tu con i reality show musicali? Ti piacciono? Li guardo? Li segui? No, io non ho nessuna critica da fare però non li guardo perché sono tante altre cose da guardare sono un appassionato di cinema in più sono un appassionato di musica quindi per esempio ho passato la notte a ascoltare Tove and Van Zandt che è un tanto autore misconosciuto americano che non conoscevo quindi mi sono scaricato agli album ho ascoltato poi ho fatto i confronti con Guy Clark con Willie Nelson con tutti i texani quindi c'è sempre da fare a livello musicale oppure ascolto metal oppure ascolto musica classica è talmente tanto da fare che non mi metto lì a guardare anche perché anche perché fanno tutte cover cioè mi piacerebbe se ci fosse qualche pezzo originale ecco siamo un sito a cena è stato simpatico lui è una persona però sai non è che si fanno molte chiacchiere lui non sa l'italiano noi l'inglese lo massichiamo così un po' e quindi abbiamo parlato del più e del meno io l'ho frequentato un po' di più perché ero diventato amico di sua madre che adesso è morta poverina che era una donna di colore perché lui è murato cioè c'è la propria inglese la mamma credo in inglese anche lei però non lo so non mi ricordo però comunque di colore quindi la madre era molto 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 carina sono andato con lei al concerto del gruppo dei Velvet Revolver ok sono andato con lei sono andato nei camerini con lei con la madre poi mi ha detto la la cognacca che era una mia amica che vive nei Chianti che era morta qualche anno fa mi ha spiocciuto molto ok comunque il resto è stato formidabile sì mi immagino io ho ancora quel libricino nel libro di nel CD di Vasco Rossi dove è scritto una bellissima testimonianza intanto noi adesso ce ne vado ad ascoltare la tua nuovissima canzone Jumi Juju un abbraccio Guido ciao 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 Guido ciao